buonasera a tutti grazie di essere qui grazie mille al circolo dei lettori per averci avermi voluto qui per l'ennesima volta condonato carrisi perché io ormai non ricordo più quante sono le volte che ti ho presentato col circolo tante tante se lo dici tu guarda tante e tante e sono però è sempre un grande piacere perché ogni a parte che io sono una tua lettrice e quindi i romanzi indipendentemente dal lavoro di presentatrice li leggo comunque e li avrei letti lo stesso però in questo caso nello specifico con l'educazione delle farfalle che non so quante persone in sala abbiano già letto finito ma secondo me tante facciamo vediamo quante l'hanno già letto e finito quanti l'hanno letto quanti ce l'hanno ma non l'hanno letto ok bene stasera racconterò il finale e stasera esatto funziona sì mi sentite alzate un pochino all'autore se no facciamo una cosa che posso già sono riduce da una tonsillite ecco ma a me piace quello rosso va bene gli piace quello rosso non contraddiciamo l'autore assolutamente perché poi comunque con si si è acceso acceso giuro che è acceso e sono basso il volume basta l'educazione delle farfalle e allora mi trovo tra le mani questo libro me lo mandano con un po di anticipo è uscito il 7 di novembre c'era un bigliettino minatorio che ho scritto questa è una super 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 anteprima e ovviamente c'è il divieto tassativo di parlarne e io lo leggo dico beh tanto c'è tempo faremo questa cosa dicembre quanto tempo ci ho messo a finirlo secondo te 24 ore più o meno cioè nel senso che ho smesso di fare qualunque ho detto inizio il venerdì sera così ho tutto il weekend a disposizione praticamente il sabato notte io già ero orfana perché già e sì donato tra l'altro ho letto perché poi mi sono letto un po di di rassegna stampa ho letto che questo tra l'altro è il tuo libro più lungo in termini di di volume di parole di cose e però li devi scrivere non so delle opere monumentali delle cose ma sai che succede che non sei l'unica molto spesso mi capita no i lettori vengono da me mi dicono ho letto in un pomeriggio l'ho letto in un giorno io penso io l'ho scritto in tre anni e storia pensare a tutti i momenti tutte le battaglie fatte perché con i libri si combattono il battito interiore tra te e autore e quindi confronto questa cosa e la domanda successiva è quando esce il prossimo prometto che non te lo chiederò alla fine di questa di questa di questa intervista giuro lo prometto no ma è molto bello questo questo rapporto che c'è è la velocità con cui i miei libri sono scritti apposta perché voi possiate leggerli così velocemente il libro deve scorrere questa è la verità io scrivo libri che scorrono poi possono piacervi non piacervi però devono scorrere devono arrivare così devono essere fatti di immagini e devono prendervi soprattutto e dovete essere schiavi del racconto lì attaccati per sapere che cosa succede ecco io vi dico questo libro per esempio è nato in tre anni e anch'io me lo sono chiesto tante volte che cosa succede adesso quindi la curiosità la vostra curiosità è stata prima di tutto la mia guarda ti sto facendo una tu sei uno scrittore per lettori voraci guarda tu hai già fatto un per il prossimo se c'è qualcosa che ha a che fare col cibo con qualcosa sei uno scrittore per lettori voraci allora l'educazione delle farfalle ovviamente io continuerò a fare il mio mestiere quindi a non fare spoiler mi raccomando poi vedo che quando ci saranno delle allusioni chi l'ha già letto occhieggerà con con quest'aria molto molto malandrina ma l'educazione delle farfalle è una storia di una madre di una figlia è una madre un po nomala si chiama serena ma diciamo che di serena ha poco ha soltanto il nome mentre invece sua figlia si chiama aurora serena è una madre riluttante oserei definirla poi appunto occhieggerò in questo modo è una broker lavora a milano su una delle piazze diciamo più difficili e competitive è chiamata lo scuolo biondo tutto questo è già scritto ovviamente nei neri sguardi non sto rivelando niente e si ritrova in una situazione che credo sia il terrore di ogni genitore serena ha questa figlia la sta arrivando da sola a suo modo è una madre molto attenta a tutta una serie di cose organizzative perché è una donna estremamente presente puntuale questa bimba in una in una settimana viene mandata al a fare un corso di sci in un esclusivo resort nelle alpi svizzere in un paesino che sembra disegnato letteralmente con 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 l'acquarello sotto la neve e questa bambina nel corso di un incendio succede questo incendio in questa struttura vengono ritrovati tutte le altre bambine ma non questa neve freddo un po freddo come stasera un po così questo libro però io ho letto che tu comunque hai iniziato a nascere da lontano prima hai accennato a tre anni di gestazione praticamente e anche ho letto appunto che questa storia per te è una storia diversa rispetto alle altre che hai scritto in cosa consiste questa diversità e perché c'è voluto così tanto a fare germogliare questo questo romanzo perché effettivamente ho capito che un po le storie sono dentro di te ma anche tu quando dicevi ho bisogno di sapere anch'io cosa succede è come se germogliassero anche dentro di te ti faccio rispondere da loro perché è diverso no no allora quanti di voi vogliono un altro romanzo di marcus anche nella sala dello schermo potete alzare quanti di voi erano pronti a chiedermi quando torna marcus eccoli alzate le ste mani che sembrate pochi se no sottorinesi perdonali siamo tutti pugliesi ricordate hai ragione no questo lo so ognuno di noi almeno un antenato pugliese allora che cosa succede perché io non scrivo più di marcus perché io non scrivo di mila la stessa domanda posso farvela su mila basket perché non accade più a un certo punto dopo il gioco del suggeritore io ho capito che mi stavo annoiando non volevo più andare avanti con quei personaggi e se io mi annoio ve annoiate anche voi e lì è nata la casa delle voci potevo andare avanti all'infinito il mio editore sarebbe stato contento gli editori internazionali sarebbero stati contenti i lettori sarebbero stati contenti potevo andare avanti all'infinito la casa delle voci era già una sfida si fa un thriller senza crime ed era già qualcosa di totalmente nuovo io sono l'abisso non vi dico questo non vi dico allora che gusto c'è se non ci sfidiamo a vicenda io sfido voi e voi sfidate me vedete io non sapevo quale sarebbe stato il destino di questa storia quando ho cominciato a pensarla tre anni fa mi sono detto è il momento giusto per scriverla se l'avessi scritta dieci anni fa questa storia non avrebbe funzionato come funzionato perché ormai tra di noi c'è un rapporto chiaro sappiamo benissimo che ci possiamo sfidare a vicenda voi sapete che quando prendete un mio libro dietro a quel libro c'è tanto pensiero tanto lavoro tantissimo lavoro tanta ricerca tanto scrupolo io sono molto scrupoloso quando scrivo perché vedete io entro nelle vostre vite rubo il vostro tempo potreste fare altro e io quel tempo me lo devo meritare me lo devo meritare cercando di darvi il meglio in assoluto della mia creatività del mio tempo e lo sottraggo il tempo a me stesso lo sottraggo vi assicuro che scrivere un romanzo non è facile io sento molto questo rapporto con il lettore tantissimo sento molto questa responsabilità del rapporto con il lettore e me ne accorgo quando poi il libro arriva a voi e voi mi venite a raccontare stasera è successo a novara poco fa mi si avvicinato un elettrice mi ha detto il tuo libro è arrivato in un momento buio della mia vita me l'ha detto una signora due mesi fa una signora che stava facendo la chemio e mi ha detto io grazie al tuo libro ho avuto modo di uscire da quella stanza è stato molto rapido perché lei l'ha letto velocemente ha provato a centellinarlo è questo che accade e io sono responsabile del tempo che mi regalate allora la necessità di sfidarvi tre anni fa quando è nata questa storia io dicevo va bene devo articolarla in modo tale da arrivare nel momento giusto nella vita dei lettori non ne ho parlato a nessuno in casa editrice lo sapevano cinque persone cinque persone e non tutti l'hanno saputo contemporaneamente il direttore editoriale il mio editor il domino di tutto che stefano mauri il capo del di james e sapete io pubblico con una sola casa editrice e resterò con questa casa editrice finché campo che è longanesi perché il merito del successo di donato carrisi è merito anche di di longanesi noi siamo una sorta di famiglia per cui tenere questo libro segreto e giravano voci in casa editrice tutti gli altri carrisi carrisi sta scrivendo un libro sulle farfalle la roba da entomologo chissà che cos'è che mistero è perché poi l'educazione delle farfalle evocava roba tipo il silenzio innocenti capite c'era questo pensiero e quando poi finalmente ho dichiarato il libro è stato a maggio dell'anno scorso erano tutti curiosi è successa una cosa è successa una cosa pazzesca che non era mai successa tutti questi signori che sono dei professionisti della lettura prima di arrivare nelle vostre mani il libro passa attraverso tante mani e tanti occhi che controllano tutto sono la vostra garanzia oltre che la mia bene tutte queste persone per la prima volta che sono abituate a dare un giudizio alla fine della lettura per la prima volta hanno avvertito la necessità di confrontarsi mentre leggevano e di sapere quindi c'era questo confronto e di sapere da me determinate queste cose ma dove è nata questa idea da dove è venuto questo spunto era la prima volta che succedeva c'era un tale entusiasmo in casa editrice che è stato veramente contagioso è stato veramente e queste bozze vi assicuro se le sono passate per per mesi e tutti l'hanno letto quando accade questo ti rendi conto di aver creato qualcosa che può raggiungere il lettore nella sua parte più intima e vedete io non lo vedo come un talento questo questo è un dono è un dono che chissà perché è capitato a me non lo so io sono un tramite sono solo un tramite quando questo accade a un chiedi miracoloso quando succede a un chiedi miracoloso di miracoloso però non succede se io continuo a raccontarvi la storia di marcus sempre la storia di marcus magari marcus tornerà metto l'anima in pace magari è destinato a tornare non lo so se trovo la storia giusta succederà io scrivo i libri che mi piacerebbe leggere quindi io mi comporto come un lettore quando quando scrivo ok il candidato a risposta mettiamola così appunto ma visto che per un periodo hanno creduto che tu fossi diventato un appassionato di entomologia questo titolo l'educazione delle farfalle perché all'inizio del libro c'è un riferimento superficiale a questa cosa ma andando approfondendo queste farfalle non sono soltanto una questione estetica legata a un gioco di bambine allora è un libro sulla maternità molti mi hanno detto ma tu non puoi parlare di maternità non sei una donna non sei una madre adesso sapete si usa questa cosa no ognuno deve parlare di ciò che sa e io francamente scrivere un libro su un uomo barbuto calvo se non mi veniva i libri nascono dall'esperienza per cui quando io racconto la storia di una madre racconto le storie delle madri che ho incontrato non solo quelle che ho incontrato nella mia vita ma anche quelle che ho incontrato per scrivere questo romanzo ho incontrato tante donne che non volevano essere madri e ho chiesto a loro quindi il personaggio di serena che appunto è una che non vuole essere madre non vuole la maternità chissà perché le donne che non vogliono essere madri si devono sempre giustificare gli uomini che non vogliono essere padri no chissà perché ma beh detto questo ci sono tante donne che non vogliono essere madri ed è legittimo no pienamente legittimo mi incuriosiva molto raccontare questo aspetto c'è stato un po di anni fa una cosa detta da mio figlio dal maggiore stavamo guardando un documentario sui bruchi i bruchi che diventano farfalle e lui mi fece una domanda spiazzante come tutte le domande dei bambini aveva cinque anni papà ma i bruchi le farfalle sanno di essere state bruco caspita in quel momento tu non sai che cosa rispondere rispondi la prima cosa che ti passa per la testa questa domanda mi è tornata in mente ascoltando le storie di queste donne anche di tante madri una madre sa di essere madre prima di diventare madre è un istinto esiste veramente l'istinto di maternità l'istinto di paternità non esiste ve lo dico subito non esiste quando mi hanno messo in braccio i miei due figli appena sfornati io li ho guardati ho detto ma chi sono questi sono noi uomini siamo tutti così se fosse venuto uno a prendermi il bambino a portarmelo via sì mi sarebbe dispiaciuto ma ne sarei fatto una ragione gli uomini si innamorano dei figli col tempo ci vuole tempo poi questo innamoramento può essere grandioso come nel mio caso e per le madri la stessa cosa quando è che serena diventa madre lei non vuole essere madre diventa madre quando nasce aurora o diventa madre quando perde aurora e questa è la domanda al centro del romanzo l'educazione delle farfalle la farfalla sa di essere stata bruco una madre sa di essere madre prima di diventarlo questo è il centro di di questo racconto e oltre a a questa madre appunto serena che tra l'altro un personaggio molto interessante per per chi l'ha letto e per chi lo leggerà a breve è un personaggio estremamente interessante è un personaggio che cambia molto nel corso del del romanzo ma in modo abbastanza imprevedibile perché poi ha dei picchi degli alti dei bassi è un tra l'altro è un romanzo molto interessante anche dal punto di vista della della struttura perché poi ha questa sorta di sembra sempre che arrivi da qualche parte poi arrivi effettivamente a qualche parte ma quella non è la fine del romanzo è come se ci fosse un perenne divenire lì dentro un tema ricorrente però effettivamente che è in tutti i tuoi romanzi è quello del fatto che ci sono sempre dei bambini perché ci sono sempre dei bambini nei tuoi romanzi perché è così centrale l'infanzia la narrazione dell'infanzia e un un infante molto particolare perché aurora è un infante molto particolare una bambina molto particolare perché è molto empatica rispetto a sua madre nel senso ma non immaginate un bambino appiccicato alla madre che lei è molto calibrata su questa madre riluttante però è un c'è sempre l'infanzia e in questo caso è creato ancora un nuovo bambino diverso un uomo una bambina in questo caso però è ancora diverso tutti quelli che io ho letto nei tuoi romanzi e li ho letti tutti perché non sono parte della setta delle sette ma allora serena è una madre efficiente ma anaffettiva non vuole essere madre quando diventa madre lei è efficientissima come madre però è anaffettiva incapace di gesti d'affetto aurora è cresciuta con l'abitudine di di essere no privata dei gesti d'affetto della madre in qualche modo loro trovano il modo di amarsi anche quando succede tutto e non vi dico niente per cui è il contrasto tra questi due personaggi che mi interessava raccontare tu mi chiedi perché i bambini i bambini sono frequenti nei miei romanzi perché ci sono due cose che ci accomunano tutti la morte e l'infanzia non il fatto di essere venuti al mondo l'infanzia tutti siamo stati bambini quindi quando io racconto l'infanzia vado a prendere qualcosa che tutti abbiamo avuto nel bene o nel male quando attingo dall'infanzia io vi sto parlando in maniera diretta per cui i bambini sono un tramite poi i bambini sono efficacissimi per le storie di paura sono efficacissimi perché la paura a questa triste fama viene considerata un sentimento no minore poco nobile per l'amore ci batte il cuore per paura ce la facciamo sotto quindi è collegato alle deiezioni vedete quanto è disprezzato invece è un sentimento nobilissimo perché attraverso la paura noi impariamo le cose del mondo da piccoli no con la paura che noi apprendiamo come funziona il mondo le fiabe sono piene di paura quelle vere sono piene di paura perché perché devono prepararci alla vita futura no le fiabe quelle dell'antologia di calvino tanto per intendersi quelle che prima di essere edulcorate dai fratelli grim prima che si aggiungesse il prefisso c'era una volta e soprattutto il suffisso sacrilego e vissero tutti felici e contenti finivano tutte malissimo perché avevano questo scopo educativo quando non esistevano i media e accadeva un fatto di sangue in un paese sperduto della provenza ecco tanto per dirvi o della pianura padana che cosa succedeva per tramandare il monito di quel di quella cosa che era successa i genitori trasformavano quel fatto in una fiaba per educare i figli cappuccetto rosso è una storia di pedofilia il lupo cattivo il pedofilo è chiaro no e così è lampante tutto questo ed ha un finale tragico tra l'altro che cosa è accaduto nella mia infanzia questa cosa era un'abitudine anche della mia infanzia vedete quando io scrivo la voce che mi racconta le storie che sto scrivendo è sempre una voce femminile perché la mia mamma mi raccontava le storie quando ero piccolo e la sua mamma raccontava mia nonna raccontava le storie a lei e alle sue sorelle quindi c'è sempre una voce femminile che racconta dentro di me io sono nato e cresciuto in un paesino della puglia che si chiama martina franca paese macabro a suo modo che cosa succedeva mia nonna ogni volta che accadeva un fatto un fatto drammatico in paese prima che le figlie ne venissero a conoscenza lo trasfigurava prima che ne venissero a conoscenza attraverso le chiacchiere del paese lo trasfigurava lo faceva diventare una fiaba in modo tale da prepararle no al al racconto e la stessa cosa quelle fiabe che mia nonna raccontava mia madre poi mia madre me le raccontate da bambino per esempio c'era una storia che raccontava mia mia nonna mia madre che collegata a un fatto di sangue degli anni 50 martina franca una donna uccise il marito che lo fece a pezzi incartò i vari resti in pagine di giornale li caricò sul portapacchi della bicicletta e di notte percorse 30 chilometri per scaricarli a mare tornò a casa poi fu subito individuata e arrestata lei si difese dicendo che il marito era violento che la picchiava e pertanto si era fatta giustizia da sola all'epoca non c'erano molte leggi che proteggessero le donne neanche adesso neanche adesso e quindi lei si era in qualche modo fatta giustizia da sé da dove partiva la storia che mi raccontava mia madre partiva dal momento in cui questa donna tornava a casa e si sedeva accanto al focolare nel silenzio della casa nel silenzio notturno aveva lasciato i resti al mare era lì nella quiete e improvvisamente sentiva una voce provenire dalla canna fumaria una voce maschile maria maria ridammi il braccio mio maria maria ridammi la testa mia ribadisco ancora una volta queste erano le mie fiabe della buonanotte la cosa assurda che c'è ancora qualcuno che mi domanda perché scrivo storie di paura capite però vedete la potenza di questo racconto la fiaba la fiaba perfetto no la trasfigurazione ora questo tipo di narrazione applicata al romanzo è efficacissima efficacissima non c'è bisogno d'altro bastano tre frasi avete sentito tre frasi un'ambientazione tre frasi e voi eravate esattamente lì con quella assassina e avete provato ciò che ha provato lei sentendo probabilmente la voce del marito defunto e fatto a pezzi che passava attraverso quel camino complimenti a tua madre che veramente una grandissima narratrice era veramente una grandissima narratrice immagino che facesse le voci tutto quanto che drammatizzasse ma tu che rapporto hai con la paura questo esula dall'educazione delle farfalle ma tu sei una persona che ha paura oppure sei uno completamente sprezzante no no io sono un fifone di prima categoria ma guai se non lo fossi perché non riuscirei a scrivere le storie che scrivo io mi lascio suggestionare dalle storie che scrivo sono talmente coinvolto a volte che non riesco a stare da solo in casa succede questa cosa l'ho raccontata ogni tanto e stavo scrivendo la casa delle voci mia moglie Sara alle sette di sera andò a fare un aperitivo con un'amica che non vedeva da tanto tempo erano le sette di sera io stavo scrivendo un capitolo ed ero talmente preso ero solo in casa che l'ho chiamata sì fa lei stai scrivendo vero perché mi sgama subito ecco in quei frangenti prima quando quando ero single chiamavo un amico per esempio molte volte ho svegliato di notte perché avevo bisogno di conforto quindi quando mi scrivete o quando mi raccontate stanotte dormito con la luce accesa non riuscivo a smettere di leggere però nello stesso tempo era attratto ho provato un'inquietudine per tutti i giorni successivi alla lettura io dico benvenuti nel mio mondo benvenuti assolutamente nel mio mondo perché noi le paure ce le andiamo a cercare questa è la verità esattamente infatti c'è tra l'altro io sono sono così anch'io sono abbastanza fifona ma non riesco a smettere di guardare fare perché c'è proprio una grande attrazione per tutto quello che racconta della paura è un modo probabilmente nostro di esorcizzare anche tutto questo di andare a cercare sempre più voracemente e ritorno ancora questo 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 termine tutto quello che ha a che fare con la paura e ultimamente io devo dire la verità e sono poche ormai le persone che mi dicono no 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 non lo guardo perché fa paura anche i più paurosi si sono un po' educati ad avvicinarsi in più un pochino di più alle cose che fanno paura credo che sia salubre per tutti in qualche modo tutto questa vicinamento alla paura la paura è curiosità se tu hai paura sei curioso e affrontare la paura significa aver voglia di conoscere la porta verde no del dio sono l'abisso è quello siamo terrorizzati dalla porta verde ma vogliamo sapere che cosa c'è dietro la porta verde tutti abbiamo una porta verde tutti ce l'abbiamo tutti siamo curiosi di sapere che cosa si nasconde dietro la porta verde e siamo talmente curiosi che poi alla fine noi andremo a sbirciare andremo a aprirla quella porta è inevitabile chi non la apre mi spaventa mi spaventa morte chi dice io non voglio sapere è come se stesse dicendo sono vivo sono qui ma non mi interessa non sono curioso la conoscenza non mi interessa mi spaventa mi fa troppa paura capisco molto bene sono anch'io come te molto spaventata dalle persone poco curiose poco intraprendenti anche sull'andare a anche ad aprire le porte verdi che abbiamo dentro di noi perché tutti li abbiamo anche dentro di noi le porte verdi torniamo a cose un po meno un po meno intime psicologiche le ambientazioni di dell'educazione delle farfalle perché appunto prima c'è una bipolarità tra milano che comunque è la prima volta tu tra l'altro che ambienti un romanzo a milano giusto giusto ok e appunto poi ti chiederò anche come mai finalmente sei arrivato a fare i conti con la grande signora dell'economia italiana un po già parzialmente non so forse dato la risposta e poi c'è questo paesino sulle alpi svizzere che quando noi lo vediamo la prima volta è nel fulgore della stagione scissica è un posto figurati può una che una grande broker della finanza ricchissima perché poi appunto adesso un po ci racconterai anche un po lo stile di vita milanese che hai attribuito a serena e aurora e poi però questo paese tu ce lo racconti anche in altri momenti ed è molto 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 bella la dialettica anche tra la grande città rutilante e un paese che è piccolo isolato avvolto nella neve e anche a un certo punto terribilmente vuoto vion è la summa di tutte queste località turistiche sciistiche svizzere in questo caso ma potrebbero essere serenamente sì l'alta savoia o anche il tirolo insomma prego la val d'aosta un po meno un po' meno perché in sé no ma non è un insulto è vero no anzi e ho perso il filo aspetti mi sono perso sulla d'aosta no allora dicevo vion che non esiste però esiste in realtà che cosa succede in questi posti che quando c'è la stagione sciistica ci appaiono veramente dei paesi da cartolina quando poi le luci si spengono le piste si chiudono quindi comincia la stagione di letargo sono due le stagioni letargo come sapete quella tra l'inverno e l'estate e quella tra l'estate e l'inverno questi paesi cambiano tornano ad essere quelli di cent'anni fa dove la gente si chiude a riccio la gente che sembra aperta ad accogliere il mondo ma in quel momento no perché tornano ad essere i padroni assoluti di quelle valli e di quei posti e quindi era estremamente affascinante raccontare qualcosa lì l'avevo già fatto nella ragazza della nebbia a Vesciò anche se quella non era una località turistica o meglio una località turistica che poi era precipitata nell'oblio quindi era interessante raccontare questo passaggio e raccontarlo attraverso Serena e poi Milano Milano in realtà contiene due città la città alta e quella dei grattacieli no poi la città bassa il grande paesone e questi due mondi che sono collegati con un ascensore in realtà non si toccano quasi mai perché la Milano grande paesone rimane quella la Milano alta rimane quella non accade la stessa cosa nelle altre città con grattacieli a New York per esempio se una signora novantenne dell'Upper East Side deve scendere per comprare il caffè da Starbucks dal suo ventiseiesimo piano indossa la pelliccia su quello che che porta in casa quindi può anche essere la tuta sformata e le ciabatte e va a prendere il caffè senza preoccuparsi di questa cosa a Milano no a Milano no la lasciura che abita al ventesimo piano si imbelletta per andare a prendere il caffè perché appunto i due mondi non si toccano non comunicano e quindi il passaggio dall'uno all'altro è piuttosto traumatico Serena che è destinata a diventare quel tipo di donna quindi lontana da ciò che accade ai suoi piedi a vivere nella città alta poi a un certo punto del romanzo si trova a vivere nella città bassa e la sua vita cambia cambia improvvisamente cambiano le sue abitudini cambia lei soprattutto cambia lei perché le città hanno questo effetto sulle persone le cambiano le città ti cambiano io ho vissuto per sei mesi a Torino per sei mesi della mia vita a Torino e quel mio periodo torinese me lo ricordo benissimo perché quel donato di Torino è rimasto qua sta ancora qua è pazzesca questa cosa e io ormai vivo tra Milano e Roma ogni tanto che a Parigi però sono Milano e Roma che mi hanno in qualche modo plasmato poi ogni tanto torno anche in Puglia però Milano e Roma e mi accorgo di come cambio quando cambio città è pazzesco è come se subissi una metamorfosi in tre ore di freccia rossa il donato di Torino poi un giorno mi piacerebbe mi piacerebbe che ce ne parlassi non questa sera però immagino immagino questa città ha avuto grandi diciamo grandi abitanti che sono profondamente cambiati Niccio è impazzito qui a pochi passi De Chirico che appunto ha iniziato a dipingere la metafisica proprio perché le piazze torinesi chiamavano quello però appunto poi un giorno ci racconterai di questi tuoi sei mesi torinesi a proposito invece della Milano città più bassa a un certo punto non so quanti di voi se ne siano accorti ma non sarò io a svelarvi questa cosa c'è un easter egg che l'easter egg è una cosa è come dire è una cosa che l'autore piazza lì come se fosse un elemento narrativo casuale in realtà è un elemento narrativo riconoscibile perché a un certo punto c'è una persona che lavora in un posto in una certa via questa persona lavora in una casa editrice poi a voi scoprire perché questa cosa è un easter egg però la cosa interessante che questa persona che legge di professione e manoscritti enuncia i tre criteri per cui per i quali si riconosce un buon romanzo e mi è piaciuta molto questa cosa perché davvero eh al di là dell'appunto della cosa buffa che eh vi lascio anche se l'avete già letto vi lascio ad andare a scoprire che cosa ha a che fare questo questa 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 via questa cosa con con la realtà dei fatti però appunto tu parli di ehm teoria della narrazione e mi è piaciuto molto questa cosa quali sono questi tre criteri e poi dopo lascio spazio al firma coppia anche perché stanno tu a Milano non ci torni più stasera letteralmente visto che parliamo di Milano e perché hai avuto voglia di dire questa cosa in un tuo romanzo? Allora vediamo se mi ricordo eh vediamo il primo l'autore non deve entrare mai in quello che racconta e questo mi sembra naturale io se fossi rimasto a Martina Franca se vi raccontassi le storie di Martina Franca vanno ierei perché quella è la mia vita ora lo scrittore ha ha una cosa è come se gli avessero dato un biglietto aperto per andare ovunque può andare su Marte può andare in Australia e può andare in qualunque momento anche nel passato quindi in Australia mille anni fa lo può fare ma perché avendo questo biglietto a disposizione gratuito uno deve restare nel posto in cui è nato e raccontare ciò che sa molti lo fanno per amor di Dio però io trovo più interessante andare a esplorare i posti perché questo dovrebbe fare uno scrittore l'esploratore conoscere e raccontare questa questo è il primo criterio l'altro criterio è che i libri non devono finire mai all'ultima pagina anche questo è importante i libri devono seguirci nella vita quotidiana quando li abbiamo chiusi devono continuare a seguirci la stessa cosa i film quando usciamo dalla sala cinematografica il film deve seguirci deve venire con noi ed è importante questo perché se no l'esperienza è finita lì si chiude il libro lo si ripone diventa un soprammobile ed è finita magari lo riprenderà qualcun altro rimane lì a prendere polvere ad ammuffire non è così le storie devono continuare a vivere ecco perché io nei miei romanzi metto sempre un finale chiuso è un finale aperto molti non metti il finale libero non è vero non è vero uno è chiuso l'altro è aperto l'altro devi continuarlo tu deve continuare con te deve essere quel seme maledetto che si insinua nella tua vita e io so che voi siete capaci di continuare quelle storie lo so molti mi scrivono mi dicono scusa non ho capito le ultime tre righe del romanzo e io rispondo sempre la stessa cosa sì che le hai capite solo che non lo vuoi ammettere questa è la verità non lo vuoi ammettere c'è sempre qualcosa di magico no le storie che ci risuono nella testa la terza cosa qual'era non me la ricordo più non me la ricordo più nemmeno io c'è qualcuno che se la ricorda erano tre cose i tre canoni i tre canoni vabbè niente no lecito anche dimenticarsene ma no per amore di dio però sulle cose principali io tendo non entrare da molti aspiranti scrittori mi portano i loro manoscritti durante le serate come queste e molti mi dicono questa è la mia vita ho tratto un romanzo della mia vita e io li guardo e dico ma chi sei e minguei se sei andato a caccia di leoni hai vissuto come un povero a parigi rischiando di morire realmente di fame hai scritto articoli straordinari e sei stato in guerra ti hanno sparato e ti sei suicidato solo allora puoi scrivere da suicidato sì solo allora puoi scrivere la tua vita e questo vedete perché se no se ci raccontiamo le nostre vite per quanto uno possa aver avuto una vita avventurosa non sarà mai minguei questo è insomma diciamo che sono pochi quelli che riescono a scrivere su una vita ordinaria molto banale dei grandi romanzi mettiamola così io allora so che ci sarà un lungo firma copie perché tenendo conto appunto dei precedenti di donato qui al circolo volevo soltanto dirti che io comunque quando mi spazzolo non ho provo più le stesse sensazioni dopo aver finito di leggere educazione alle farfalle sei riuscito a cambiare veramente gli occhi con cui guardo una spazzola e per chi non l'ha ancora letto ma ora sono fatti i vostri posso fare paura a voi con qualcosa che non fa paura a me c'è questo donato carrizi educazione alle farfalle grazie mille grazie a te grazie a te Grazie a tutti